buongiorno a tutti e iniziamo con questo video tutorial a vedere come accedere alla piattaforma per la compilazione delle domande per le gradatorie provinciali d'istituto per le supplenze 2022 2023 e 2023 2024 andando sul sito del ministero dell'istruzione nell'home page in basso troverete questa icona che è stata creata proprio per consentire l'accesso alle alla piattaforma dove si potrà compilare la domanda cliccando su questa icona si accederà alla piattaforma di fatto si entra in questa piattaforma dove troverete numerose informazioni le gradatori i primi passi il percorso i documenti la normativa le informazioni utili e i contatti nel caso in cui qualcosa non funzionasse per entrare proprio nel vivo nella compilazione della domanda per adesso non c'è nessun tasto che lo consenta direttamente per cui vi indichiamo che la strada che consente la compilazione della domanda andando sui primi passi o da questo tasto o da questa icona e facendo clic su questa si passa a una nuova pagina in cui appunto ci sono i primi passi per gli aspiranti e il punto 9 il punto 9 l'ultimo punto dopo magari avere consultato eventualmente anche i punti precedenti dove c'è anche la normativa utile per la compilazione c'è procedere alla compilazione dell'istanza cliccando su questa voce si entrerà proprio in una pagina in cui ci sarà da leggere il riferimento al trattamento dei dati personali e della privacy come dicevamo si entra proprio in questo ambiente dove ci sono le procedure di istituzione del gradatore provinciale di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4 commi 6 bis 6 ter della legge del 3 maggio 1999 la numero 124 e in cui si riferisce l'ordinanza ministeriale numero 112 del 6 maggio 2022 per la compilazione delle gradatorie provinciali per le supplenze e di istituto per le supplenze per il biegno 2022 2024 scendendo in basso si può arrivare si arriva al tasto di per accedere alla propria domanda della compilazione delleadanze la pr Donnui